Siamo perplessi sulla tempistica dei lavori che andranno a coincidere con l'inizio della stagione estiva, quindi siamo timorosi che questi lavori possano andare a pregiudicare il lavoro delle attività commerciali. Abbiamo espresso le nostre perplessità al Vice Sindaco che ci ha rassicurato dicendo che comunque le attività riusciranno a lavorare anche nel periodo pasquale e che li metterà in grado di riuscire a lavorare anche nel periodo pasquale. Noi ci fidiamo, ci vogliamo fidare della parola dell'amministrazione del Vice Sindaco Zagarella, quindi speriamo che per Pasqua quelle attività riescano comunque a lavorare. Nell'intanto abbiamo anche fatto presente che una parte dei lavori del primo lotto deve essere comunque completata e attendiamo anche che iniziano i lavori per premia Boine e tutti questi lavori del primo affalto dovrebbero finire entro la fine di marzo. C'è un po' di problemi anche sui parcheggi? A parcheggi riteniamo che i parcheggi a Borgomarina, come sempre, siano pochi e si stiano sempre più riducenti. Abbiamo chiesto all'amministrazione di attivarsi in tutte le maniere che ritiene opportuna per cercare di ovviare il problema dei parcheggi che sono veramente esigui, soprattutto adesso a causa dei lavori del Polo.